È un ampliamento importante quello deliberato in sede di Assemblea dei Soci da parte di AISA Impianti e che riguarda l'impianto di gestione dei rifiuti di San Zeno. Le autorizzazioni che la Regione Toscana ci ha dato nel 2020 e che sono quelle con le quali stiamo realizzando l'implementazione sono per un complessivo di 200.000 tonnellate di cui 75.000 di forno. Quello che è la nostra intenzione è di recuperare e mettere in produzione aumentando contemporaneamente tutta la produzione di verde 70 quindi andando a un processo di biodigestione veramente raddoppiato di mettere in produzione anche l'attuale linea chiaramente con tutti quegli ammodernamenti che saranno necessari quando la 75.000 andrà. Quindi fondamentalmente il conto è 200.000 più 45.000. Tra i comuni soci serpeggia soprattutto il malumore tra le amministrazioni di centro-sinistra. Quelle che si sono astenute sono state Foiano e Monte San Zavino, contrari Civitella in Valdichiana, Marciano e Lucignano. Tra le questioni più spinose il fatto che l'impianto potesse ricevere rifiuti da fuori provincia o addirittura da fuori regione. L'assemblea dei soci ha dato due indicazioni. Ha detto fonti rinnovabili e scarti di rifiuti che sono fonti rinnovabili chiaramente inquadrati chiaramente nell'ambito dei rifiuti urbani e provenienti da lato sud Toscana. Arezzo è una realtà industriale, è una realtà dove si sta proprio realizzando fondamentalmente la creazione di una centrale di recupero totale che potrà dare energie dal biometano all'idrogeno. Le quantità previste in base alle autorizzazioni del 2020, c'è il biodigestore in costruzione, corrispondono praticamente a 100.000 pieni di una normale auto a metano. Si sta parlando di quello che potrebbe dare un distributore e mezzo. Quello che abbiamo intenzione di fare e proprio di ampliare questa produzione biometano ci porterà a sostanzialmente poter alimentare 5 distributori da cominciare a pensare in quali posti sistemare.